Si è allargato a sinistra, punta Capullo, subra, è nel caccio, cerca l'inserimento in area di rigore, contatto con Gattuso, calcio di rigore. Fa fatica a gestire la palla, Pirlo non può fare quell'errore che ha fatto 30 secondi fa, non può sbagliare il passaggio e poi Gattuso deve temporeggiare, quindi non è un fallo così evidente da rigore però... Parte il tiro, rete, pareggio della Penerba, c'è uno a uno. Complimenti a come ha calciato il rigore, perché ha guardato fino alla fine Dida, non ha abbassato lo sguardo e poi l'ha visto muoversi prima e l'ha messa dall'altra parte, davvero bravo. Esecuzione impeccabile da parte di Alex, uno a uno.